Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. È tardi perché sono quasi le 10. Mi sono svegliata tardi, vabbè, prima perché se ne sono andata a dormire tardi, non ve lo dico neanche più, ma mi sono svegliata di mettere la sveglia, quindi grazie al, non lo so, al Dio in cielo, non lo so, a quello in cui credete, mi sono svegliata poco fa e ora devo correre e andare a fare la lezione in palestra. Quindi mi sono fatta una skin care velocissima, sto mettendo un pochino di crema al giorno, tra l'altro dopo vi devo far vedere un po' di cose, come ho risistemato anche il bagno eccetera, anche se devo metterlo a posto perché dopo mi darete sicuramente una mano. Quindi adesso mi resto e corro. Non ci crederete mai ma alla fine, oddio, mi piasca il telefono. Alla fine sono addirittura arrivata in anticipo perché la lezione ce l'ho alle 11 e un quarto, sono le 10 e 50, non so se si leggerà qualcosa, comunque fidatevi. Devo addirittura aspettare, cioè mi sono scapicollata per nulla, però vabbè. Ma io non anticipo, che ritardo ragazzi. Ne approfitto per parlarvi un pochino e per dirvi che questi giorni mi sono data a TikTok e in realtà mi piace molto perché è veloce, immediato, si possono fare un sacco di cose, come i vlog o qualsiasi cosa vedo in giro ve la riprendo. Makeup tutorial, sto facendo quelli ispirati ai personaggi dei BT21, che sono i personaggini dei BTS. E quindi insomma mi sto divertendo molto. Se volete vi lascio il profilo qui sotto nell'info box così mi iniziate a seguire anche lì. Perché anche lì in realtà faccio dei mini vlog, infatti lo sto facendo anche oggi. Ah però non lo so quante bozze che faccio cose, poi dico no vabbè queste non le carico, no vabbè queste le riuso un'altra volta. Un casino, ultimamente un casino. Questo era uno dei progetti che volevo iniziare in questo 2022, quindi sono contenta di esserci riuscita. Veramente si può fare la qualunque, quindi lo prenderò proprio come un canale di libero sfogo. Per quanto riguarda YouTube invece volevo cercare di ristabilire i due video a settimana e poi metterci un vlog, quindi farne tre a settimana. Però sto cercando di capire bene come organizzarmi con gli impegni fissi che ho appunto settimanalmente fuori dal lavoro intendo. Quindi sì, bisogna un attimo riorganizzarsi, lo sapete che io sono una persona che se non è organizzata, non sa quello che deve fare, va in palla. Quindi devo tipo farmi una sorta di lista. Poi dopo devo tornare a casa, devo tirare fuori i maglioni perché non li ho ancora tirati fuori, cioè non ho ancora fatto il cambio di stagione completo. Perché poi quando dovevo partire per Los Angeles ho detto che tiro fuori a fare i maglioni, se tanto ho lì, starò a mezzemaniche eccetera eccetera, che poi tornassi indietro io mi porterei pure il cappotto, ma vabbè dettagli. E quindi non l'avevo più fatto. Quindi devo fare quello, poi appunto devo sistemare il bagno. Devo togliere un sacco di prodottini che comunque sono scaduti perché dopo un certo periodo ovviamente bisogna toglierli. E soprattutto vi volevo far vedere cosa ho fatto in camera perché ho spostato un po' di cosine. Poi mi dovete dare anche un consiglio. Quindi ora aspetto che sia l'orario, così entro, che devo pure andare al bagno. Arrivata nel mio solito spogliatoio qui in palestra, pronti per la lezione di oggi. Sono passata un attimo al supermercato perché mi serviva l'insalata. Mi ho ritrovato delle cose che vi devo assolutamente far vedere. Se avete un Todis vicino, adesso non so se tutti i negozi mettono le stesse cose. Sono una cosa mamma mia, troppo buona. Ma le noci, raga, le noci sono una cosa. Non c'erano purtroppo, visto che posso mangiare solo frutta secca, ho dovuto prendere le mandorle. Poi ho troppreso, un po' di verdura, un po' di granelle di frutta secca sempre da mettere in un yogurt la mattina. Ah, perché qui nel blog su YouTube non ve l'ho ancora detto, ma ho ricominciato a fare la chetogenica. Sì, niente zuccheri, niente carbo, eccetera, eccetera, eccetera. Però me la sto vivendo meglio rispetto alla scorsa volta, devo dire. Allora, sono stata fino ad adesso ad aggiornare il profilo Instagram, la pagina quella dei BTS che abbiamo aperto io a mia amica Alessia. Perché stanno uscendo notizie a manetta, foto a manetta e quindi devo fare il mio lavoro. Non mi bastava tutte le cose che ho da fare, mi sono aggiunta quest'altro carico in più. Però sono felice di farlo, perché vedo che vi piace molto, quindi se non sapete di questa esistenza della pagina vi metto anche questa nell'info box. Però mi devo ricordare che sono sempre una persona, cioè c'è Alessia che mi aiuta, però col fatto che lei comunque studia università, lavoro, eccetera. Io riesco un po' a stare un po' più dietro, quindi sì, però facciamo un po' di turno. Stavo anche pensando a cosa mettere su questa parete che vedete qua vuota. Perché avete visto che su Photosy ho stampato queste qui di Jungkook, volevo stampare o dei mini quadretti, quindi tante piccole foto, oppure fare un poster grande con le foto di tutti i loro sette. La sto valutando, perché sul sito di Photosy ci stanno gli sconti e quindi volevo vedere. Però dipende sempre quanto mi viene a costare, perché altra cosa. Questi giorni stanno uscendo le collezioni dei merch singoli che hanno fatto appunto i BTS. ogni membro ha fatto quello che gli ispirava, chi ha fatto dei pantaloni, chi ha fatto, non lo so, degli accessori, chi ha fatto il pigiama, cuscino. E stasera esce quello di Jimin che ha fatto una felpa che è troppo bellina e un paio di orecchine, quindi volevo vedere se riuscivo a prenderla. Sono già stata sveglia fino alle 3 di mattina l'altra volta, perché con il fuso ovviamente qui in Italia sono le 3 di mattina quando esce. E stavo per prendere la collana di Yoongi, però poi ci ho ripensato, tempo che poi sono tornata indietro, che ci ho ripensato. Ovviamente era già sold out in tipo un minuto. Quindi devo ponderare bene le mie scelte, anche perché quello di JK deve ancora uscire. In realtà c'è stato un errore da parte del team di Weverse, quindi hanno già spoilerato che cosa sono le sue uscite. Io so già cosa ha fatto, so già quanto costano. Non ve lo dico perché magari appunto voi volete la sorpresa, però io me la sono beccata su Twitter questa cosa, quindi ok. E volevo prendere in realtà una delle due cose, anche se mi piacerebbero entrambe. Ma più che altro non puoi decidere, capito? Cioè devi fare una scelta a prescindere, perché tempo che entri per prendere una cosa, l'altra è già sold out e tu stai sulla pagina dell'altra. Cioè è un casino, oltre che gli dai fior di soldi neanche puoi scegliere cosa prendere. E in più la spedizione ragazzi. E non so se ci sarà la dogana perché non ho mai comprato da Weverse, quindi meraviglioso. Staremo a vedere, non lo so. Vediamo se riesco a portare questo vlog fino alle 3 di mattina stamattina, così vi faccio vedere tutta la tiridera. Comunque stavo cercando appunto di mettere un po' a posto, di capire che cosa fare adesso. Che come vi ho detto devo editare delle cose al computer, però prima magari mi metto a fare il look qui alla postazione. Oggi dovrei fare quello di Shuki, che è il personaggino di Yungi, di Suga. Che in realtà è tutto marrone, quindi non è che dà tanto spazio alla fantasia. Ecco, saprei già che make-up fare. Vedete il personaggino è questo qui, quindi sta un attimo capendo. Poi non vi ho fatto vedere che qui ho cambiato delle cose, ho tolto le foto, la candela che c'era qui e ci ho messo il mio diffusore. Che almeno la notte mi arriva il vapore più vicino al letto, quindi l'azione è ancora più prepotente. E le cose le ho messe qui. Ho liberato tutta una sezione qua della make-up collection, che tra l'altro sì, il video arriva, 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 promesso vi faccio vedere tutto quanto. E qui ho fatto il mio angolino con tutte le cose di BTS. Allora, queste non ci fate caso perché è un regalo. E poi io non mi ero accorta di avere così tante cose di Kuki, cioè veramente senza neanche farlo apposta. Comunque, questo è il mio angolo merch, l'uniche cose che ho. Di c'è anche un album, l'unico è solo che avrò mai nella vita. Poi mi è arrivato il JQ, la copertina di Jungkook. Carino il mio angolino, molto carino. Detto ciò, adesso mi vado a fare la doccia e inizio a fare tutte queste cose bellissime. Ho appena finito di fare il look di Shuki. E alla fine è venuto in questo modo. Anche se il cappello mi turba perché mi copre la scritta, però fa molto youngy, quindi lo volevo lasciare. Ho registrato qua tutte le mie cose, tutti i miei vari TikTok. Mi piace molto, soprattutto questa base bella glowy. E adesso sì, finisco di scattare le foto. Allora, praticamente mi sto struccando a piccoli pezzi. Quindi mi sono struccata. Poi mi hanno lacrimato gli occhi. Mi ho detto, ok, pausa. E ora devo continuare la mia skincare. Quindi metterò un bel siero. Che ho finito. Ho perso il conto di quanti non finiti di questo. Anche perché ve l'ho detto che devo rimanere sveglio almeno fino alle 3. E quindi serve una skincare bella, prepotente. Mi sarei fatta una maschera ma non c'ho voglia. Perchè altro perché c'ho freddo. E la maschera, quella in tessuto che mi metto, è gelata. Poi ho anche da editare una marea di foto di quelle che ho scattato in questi giorni. Tra l'altro sono venute tutte benissimo. Strano, è vero. Quindi vai di contorno occhi. Tra l'altro sento i cani che stanno facendo qualcosa qua per terra. Non capisco che cosa stia succedendo. Comunque oggi sono impazzita a stare dietro a tutti questi social. Non lo so veramente come mi prendono queste idee malzane. Tra l'altro spero la prossima volta che vado a fare le unghie mi rifacciano sto cacchio di mignolo. Cioè quanti mesi sono ormai che io sto così? Saranno tre mesi. Ve la faccio vedere. Vedete che è ricresciuta? Manca solo questo pezzettino qua. Invece la maschera metto questa tipo maschera notturna di Ipoda. Così è bella nutriente. E pronta. Ultimamente c'è una pelle veramente brutta. Non so che cosa sia successo ma sono piena di bollicine. Però non ho cambiato prodotti. Non ho fatto nulla di strano. Ho cambiato la dieta. Mi direte quello? Tra l'altro mi sono risbagliata un'altra volta. Ho fatto la skin care prima di lavarmi i denti. Mannaggia miseria. Voi che fate? Prima mi fate la skin care e poi vi lavate i denti o viceversa? Cioè anche perché non c'è senso lavarsi i denti dopo che si è fatta la skin care? Sennò ogni volta poi devo ripulirmi qua e questa zona poi non viene incremata giustamente. Trovate il senso in tutto ciò, vero? O sono io pazza? Allora questo è uno dei lati negativi di aver messo il... Non mi viene mai come cacchio si chiama. Non vaporizzatore. Vabbè avete capito. Aggeggio. Vicino al letto. Cioè a parte che fa un sacco di condensa. Non so se riuscite a notare l'acqua che si forma. Vabbè è fatto apposta grazie al cavolo. Ah l'umidificatore ecco come si chiama. Ma guardate sulla lampada. Cioè infatti la mattina trovo tipo una chiazza di roba qua sopra. Però ci sta il MagSafe qua. Spero non si rovini. Vabbè. Sto faticando a rimanere sveglia. Cioè non ti sapete di miei occhi sono due palle gonfi. E sono soltanto l'una e venti. Voi direte. Ilà chi ti fa fa? Io amo chi ha tutti i giorni. È una domanda trite e ritrita. Però che vi devo dire? Questo è. Tra l'altro qui ci sono gli ignomini che dormono. Sì mamma mia. Scusa. Stai svegliato amore. In più prima sono scesa. Ho cercato le mie foto da piccola. Perché le dovevo mandare a una mia amica. E ho trovato questa. Guardate che carina. Io ho già piccola pittrice. Questa qui con la pianola. Vabbè questa nel senso la evite. Oddio questa no. Mi prego mi prego no. Questa più carina da biancaneve. Questa ragazzi io non lo so perché. C'ha delle vibes che adoro. Qui io ho già pronta al matrimonio. Ovviamente anche qui. Molto molto carina. Questo è il mio periodo da Britney Spears. E qui tutte le mie varie foto a cavallo. Ho sempre avuto una passione per i cavalli. Perché ve lo fate vedere? Boh così. In realtà c'erano delle foto migliori. Che però non sono riuscita a trovare. Cioè non so se anche i vostri genitori hanno una marea di foto. Tanto tempo fa. Questa è una cosa che mi dispiace che effettivamente si sia persa. Perché poi vedete. I miei hanno stampato tutte queste foto. Io me le posso riguardare. Se mai avrò dei figli un giorno. Io potrò fargliele vedere. Però non so se io sarò in grado di fare la stessa cosa. Cioè o se si potrà fare la stessa cosa. Vabbè che ancora si stampano. Però vabbè. Si è persa questa cosa. Comunque è un casino. Le tengono male. Infatti penso un giorno mi metterò. Mi farò un mazzo tanto. Perché però voglio catalogarle per bene. Odio le cose disordinate. Cioè proprio se mi dai un cazzotto in faccia. Fa meno male. Ho perso il conto degli sbadigli che ho fatto. Se vedete sono in posizione eretta. Non mi sono neanche sdraiata sul letto. Perché appena mi poggio io sono sicura che crollo. Prossima clip. Per voi ci sarà un salto temporale di un'ora e mezza. E saremo in procinto di tentare di prendere questo merch di Cimin. Poi vorrei farvi vedere sul sito e soprattutto il prezzo. Questo qui è la felpa. E questi sono gli orecchini. Cioè. Ok tutto Cimina molto carina ma. Poi aspettate vi dice anche la spedizione. Per l'Italia sono 33 dollari e 61. Quindi nell'ipotetico caso in cui io riuscissi a prenderla. Dovrei pagare questa cosa. 120 dollari. Che sarebbero all'incirca. Vediamo con il cambio attuale. 105 euro. Perché l'ha fatta Cimin dai PTS. Io veramente. Io ancora mi chiedo perché. Perché il mio cervello non riesce a processare tutto ciò. Perché cado sempre in questi inutili trappole. Sono esattamente le 2 e 58. Sono già sulla pagina ovviamente. Per essere pronta a rifresciare. Contate che non vi ho detto una cosa. L'altra volta con la collana di Suga. Io avevo rifresciato e mi dava sold out. Poi ho rifresciato un'altra volta e mi dava i prodotti. Quindi non so se stavolta succederà la stessa cosa. Ok appena scattato 59. Quindi riprovo a rifresciare. Vedete infatti mi dà sold out. Però può essere che le rimettano. Cioè fanno un sold out momentaneo. Poi la rimettono perché non è possibile. Ok è la terza volta che rifresci ed è sempre sold out. Non era successo così l'altra volta. Ok mi sta rifericando la pagina. Sono le 3 appena scattate. Ok 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 me la dà me la dà me la dà. Ok fai bye now. Sono nel check out. Cioè non si vede ma sono nel check out. Ok 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 ok. Paypal. 177 dollari l'immortà. Mi sta caricando la pagina. Non so che cosa succederà. Tra l'altro ho preso la prima taglia che ho visto la S. Sto entrando su Paypal. Ok vediamo. Aspettate. No vabbè mi dice che la S è sold out. No ragazzi cioè ci stavo. No ragazzi non è possibile. Cioè ci ha messo troppo per farmi fare il pagamento. Mi giuro. No ragazzi questa la dovete vedere perché sono le 3-2 minuti. Entrambe le cose sono sold out. Vabbè mi sono risparmiata 177 dollari. Ma quando uscirà quella di Chonggu io non lo so che cosa succederà. Sta cosa è assurda. È assurda. Niente ragazzi quindi abbiamo vissuto anche questa esperienza. È stato meraviglioso. Adesso vado a dormire anche perché domani mi devo sviare alle 8. Quindi almeno 5 ore me le faccio. Sono un attimo in scioccata. Detto ciò vi mando un bacio grande. Grazie per essere stati con me in questo video. Ci vediamo presto. Ciao.